Chiesa di San Giorgio. L'edificio è ricordato in una pergamena datata 1145. La chiesetta, tuttavia, doveva essere molto più antica, poiché la sua dedica è tipicamente longobarda. La struttura esistente non è quella originaria, probabilmente inglobata in quella attuale sin dalla prima metà del Cinquecento. In una delle due cappelle laterali vi era un basso rilievo raffigurante la Vergine con il bambino, che, come riporta la dicitura, sia noto, come nell'anno 1512 al 4 di marzo, questa antica immagine della Madonna fu vista da molti piangere sangue. La Madonna miracolosa ora è stata sostituita da una statua dell'Assunta ascrivibile al XVI secolo.